Eccoci qui al rientro a It's in Dance con il primo ospite di questa nostra trasmissione. Dunque, intanto vi dico che è docente al Conservatorio dell'Istituto Paesiello di Taranto. È una materia molto impegnativa, importante, musica jazz. E poi, secondo classificato al Festival di Sanremo edizione 2004, lo definiscono, pensate, la forza travolgente di un mare inquieto. Chi è? Signore e signori, Mario Rosini! Ciao Mario, benvenuto. Grazie, grazie Alfonso. Come stai innanzitutto? Beh, mi sto riprendendo da una influenza che mi ha lasciato un po' per terra, però ce la facciamo. Diciamo che ce la faremo. Sì, sì, sì. Allora Mario, intanto un grande complimento al fatto che tu sei docente all'interno di una struttura così importante qual è il Conservatorio di Taranto. Raccontaci brevemente questa esperienza. Intanto lì faccio un corso che si chiama Canto Jazz, non Musica Jazz perché c'è il mio collega bravissimo, Nico Morelli, che lo fa. Io riguardo il canto nella Musica Jazz. È una bella esperienza perché comunque affondiamo le radici proprio in questo genere dall'inizio della storia del jazz fino a quello più attuale, più moderno. Non con poche difficoltà perché comunque c'è anche la coralità, c'è bisogno di dare il piano forte, c'è un po' di cose che non affrontate in cinque anni. Perfetto, io invidio un po' i tuoi allievi comunque, come si comportano? No, devo dire che ci sono dei talenti veramente molto, molto forti. Per cui è bene che ci siano queste forme di studio anche nell'interno del Conservatorio. Bene, allora incoraggiamo i giovani, sono tanti, a seguire il Conservatorio, una strada sicuramente ambita e ambiziosa, vero? Direi di sì, anche perché poi uno si ritrova a fare male un bel diploma che può servire sempre. Ebbene, benissimo. Allora Mario, l'occasione di incontrarci per la presentazione di un brano, poi nella seconda parte parleremo del tuo secondo brano. Questo ha per titolo? Questo titolo è abbastanza emblematico, chiamo Innamorarmi ancora. Che non serve male. È una necessità di ogni uomo e di ogni donna, spero, perché comunque l'amore rimane quella parentesi che fa sembrare diversi. Benissimo. Allora, per voi Mario Rosini. A volte sembra che tu ti sia contro Qualsiasi cosa o chiunque stia incontrando E chiudi fuori i tuoi sogni, la tua America E poi apparecchi una cena senza musica Senza musica E tu ti chiedi quanto ancora devi immaginare Fare appugni con inganni senza farti male Ripiegherei sulle vecchie pagine di ieri Per provare a sorridere E innamorarmi ancora Senza una parola Senza un limite Solo vivere E innamorarmi ancora Una volta ancora Una volta ancora Una volta ancora Una volta ancora Tutto servirà Così facile E semplice L'amore L'amore al centro della mia vita ci sarà Non sbatterò più la mia testa a un muro mai Ricucirò le mie più piccole speranze al cuore Per ricominciare Per ricominciare a sorridere E innamorarmi ancora Senza una parola Senza un limite Solo vivere Innamorarmi ancora Innamorarmi ancora Una volta ancora Una volta ancora Tutto sembrerà Così facile Innamorarmi ancora E semplice Innamorarmi ancora Una volta ancora Tutto sembrerà Così facile E semplice Senza parole Grazie Davvero melodiosa Complimenti davvero E' l'occasione per innamorarsi Diciamo che Magari ci coinvolge un po' tutto in prima persona Ma che ti devo dire? Secondo me Il segreto Quell'antidoto Per una vita abbastanza di routine Che noi Insomma la maggior parte di noi conduce Per cui l'innamoramento Ma di qualunque cosa Anche di una bella giornata di sole Oppure del nostro lavoro Oppure di altre cose Comunque avere la passione In tutto quello che si fa Bene Allora ho un grande Un grande personaggio Signori Mario Rosini Tu sai come si intitola la trasmissione? Si intitola Hit and dance Hit Hit come la hit parade E dance come il ballo Che non ci devi lasciare mai Quindi io dico Continua E tu dici Hit and dance Facciamo Vediamo se viene bene Sì? Continua Hit and dance Yeah Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.